Ben trovati ai lettori della pressa, ritorniamo con una diretta da qualche tempo, non facevamo. Oggi la notizia riguardante l'universo Covid principale, questo scontro tra il professor Massimo Galli ieri sera e il presidente della regione Stefano Bonacini. Ne abbiamo dato ampio conto sulla pressa, tra l'altro dove abbiamo pubblicato in anteprima, questo non c'entra nulla, i compensi record di quest'anno del 2020 pubblicati dopo l'assemblea di questa mattina di ERA dove l'amministratore delegato Venier guadagna 1,3 milioni di euro. Ha avuto questo compenso nel 2020, compresi il raggiungimento degli obiettivi futuri, però questo è stato il compenso nel 2020. Ma insomma, al di là di questa notizia economica che farà pensare e riflettere molti anche alla luce della crisi economica e del costo delle bollette ERA che grava sulle tasche dei modenesi, però dicevo la notizia principale è appunto questo scontro tra Bonacini e Galli ieri sera. Io crediamo, insomma lo abbiamo scritto anche, che questo scontro sia al di là di come la si pensi sulle aperture, sulle chiusure, in fondo anche su come la si pensi sulla gestione della pandemia nel nostro paese, sulla necessità o meno di chiudere il paese con i lockdown che sono stati attuati fino a questo momento. Ecco, al di là di tutto questo credo che lo scontro riflette, metta in luce, grazie all'intervento di Galli, questo medico 69enne che da mesi appare in televisione dando i numeri oggettivi, bisogna dire, su questi sono della pandemia, grazie a questo intervento sveglia uno dei difetti principali che hanno caratterizzato la gestione della pandemia da parte di istituzioni che è l'incapacità di dire la verità, di dire le cose come stanno, è questo in fondo che ha detto Galli a Bonacini. Dite la verità, Bonacini poi insomma usa la solita tecnica, no? Perché è così arrabbiato, in qualche modo come per denigrare il proprio interlocutore dicendo io sono tranquillo, no? Con questa postura, mentre tu ti arrabbia e quindi hai torto, sei un povero isterico. Così non è, ovviamente, Galli si è arrabbiato giustamente, ha detto io a questi mezzucci, no? Queste tattiche strategie comunicative, ormai rodate, non ci sto e ti dico, e dico, ragazzo mio, per citare proprio quello che ha detto Galli che la verità è che oggi si decide di riaprire il paese a fronte di quello che viene detto rischio calcolato, cioè si dice apriamo sapendo che ci saranno, questo lo dice anche il Comitato Tecnico Scientifico e Galli lo ribadisce, che ci sarà un aumento, un escalation dei contagi e quindi dei decessi. Questa è la verità che viene nascosta o che viene in qualche modo messa in secondo piano e che non viene detta in maniera chiara. In fondo è questa, no? L'incapacità di dire le cose come stanno. Si può pensare o meno che sia giusto il lockdown, però bisogna dire le cose. Se non ci fosse stato il lockdown, sarebbe stato un aumento dei decessi tra le categorie più deboli, perché è evidente che il virus colpisce soprattutto anziani e persone con più patologie. Era un rischio da mettere in campo e si poteva in qualche modo correre quel rischio o no? Se si poteva correre si poteva aprire, quindi si poteva dare ristori economici, nel senso che si poteva continuare a far lavorare, non i ristori quelli del governo, gli operatori economici e quindi i ristoratori, i baristi, tutte le varie categorie. Il mondo della cultura, perché insomma il teatro, il cinema sono rimasti chiusi, ma insomma tutte le categorie sono tantissime penalizzate dal lockdown, però a costo, a prezzo appunto della salute, perché questo è, questo è. Invece no, invece no, si dice no, il rischio è calcolato, tutto sommato così dice il governo. Tant'è vero che uno degli argomenti usati proprio da Bonaccini è stato, allora lei dice che il governo è fatto, sono state assunte decisioni irresponsabili con le riaperture. Un silogismo di fronte al quale Galli ovviamente dice non ci sto, io non sono un politico, io dico da tecnico che le cose stanno così. E questa esigenza di verità, di verità profonda, di dire le cose come stanno, che è mancata in questa gestione della pandemia, è mancata a livello comunale, regionale, nazionale. Nella prima fase si è detto, si è negato per mesi, per quanto riguarda le CRA, quello che stava accadendo nelle case di riposo, non si è detto esplicitamente che stava avvenendo una strage. Di chi fosse colpa non importa, non è questione di colpa, però bisognava ammetterlo. Le persone sono morte perché si poteva investire molto di più dando un infermiere per ogni malato, per ogni anziano, era chiaro che era un investimento enorme, ma avrebbe probabilmente salvato le vite. E' sempre un compromesso, però di fronte a questi compromessi inevitabili non li si ammette. Si dice, abbiamo questo ogni ora dei mondi possibili, la regione Emilia Romagna, Modena, l'Italia, ha cercato di gestirla, ha fatto il meglio di quello che si poteva fare per la gestione della pandemia. E così evidentemente non è. E allora questa mancanza di verità, questa mancanza di trasparenza, in fondo si paga. E lo dice Galli bene alla fine, guardi che lei confonde, lo dice a Bonacini, quello che vuole il paese da quello che sta facendo la politica. Perché non sono i politici e gli amministratori delegati di un potere divino del popolo, sono semplicemente degli eletti da una maggioranza, peraltro relativa, nel caso della regione relativa di elettori, e di fronte a quella maggioranza inizia sono chiamati ad amministrare, ma non è un potere divino, non sono assolutamente, quando parlano non è la bocca della verità, non interpretano il volere del popolo. Ecco, questo aspetto, questa mancanza di autocritica, di dire le cose come stanno, di analizzare i fatti, anche crudi, nella loro verità è stato uno dei deficit maggiori. Poi nel merito, aperture, chiusure, anche tesi estremiste, quelle dei cosiddetti negazionisti, quelli che teorizzano che il virus non esista, ma che sia semplicemente poco più di un'influenza, tra l'altro una tesi assolutamente senza fondamento. Ma non è il merito in questo caso, è l'incapacità, e quello che Galli dice bene è l'ipocrisia, cioè il non portare le conseguenze ai propri pensieri. Se si pensa, come ha fatto per mesi la regione Emilia-Romagna, il governo, che siamo di fronte a un'ondata pandemica di proporzioni gravissime, allora di fronte a numeri che sono ancora alti non si riapre. Non si riapre, è evidente, perché se così è stato. Se no si dice abbiamo sbagliato sinora, a chiudere sinora, perché in fondo i dati non sono molto diversi rispetto a due mesi fa. Ecco, questa discrasia, questa distanza tra la verità e quello che viene invece fatto, crea in fondo quella mancanza di fiducia nella politica che poi crea anche difficoltà nell'accettare le regole. Ho fatto l'esempio appunto di scelta tra lockdown e riapertura e viceversa, si poteva scegliere apertamente, si poteva dire da subito non ci sono le forze economiche per tenere chiuso, teniamo aperte, ma ve lo diciamo, come fece Boris Johnson all'inizio. Prepariamoci, prepariamoci perché ci saranno queste conseguenze, questi decessi di persone anziane, di persone più deboli, che è una cosa immane, ma così è. Allora, non si ha la forza di dirlo, la verità. E ci si nasconde appunto, come ha fatto ieri sera Bonaccini, dietro a dei giochi di parole, dietro a una retorica che cerca di sviluppare l'avversario, che sinceramente è stucchevole. Ieri non è andata bene a Bonaccini, perché ha trovato un interlocutore in grado di ribattere punto su punto, di non scendere sul piano della politica e del dibattito, ma semplicemente dei numeri, e ha trovato, insomma, si è scontrato con la verità. Ma non perché Galli abbia la verità infusa, ovviamente, ma perché i numeri così dicono, ed è una verità che è certificata anche dal Comitato Tecnico Scientifico, e in fondo dal Governo, che dice appunto, andiamo incontro a un rischio calcolato. Ecco, allora, insomma, abbiamo voluto fare questa analisi, che è appunto un'analisi sul metodo, insomma, con cui è stata gestita la pandemia, al di là delle scelte, che ovviamente sono difficili, perché in ogni caso scontentano qualcuno, e creano problemi in ogni caso, perché di fronte, pur se si vogliono limitare, le conseguenze strettamente sanitarie, si creano dei problemi economici enormi, che hanno ripercussioni sanitarie, e viceversa, se si dovessero tutelare solamente gli aspetti economici, si creerebbero ripercussioni sanitarie. Ma questo equilibrio, che andava ricercato, e a nostro avviso è stato ricercato male, però andava spiegato in maniera chiara, e senza l'ipocrisia di chi dice, tutto sommato, stiamo facendo, abbiamo fatto il meglio, e stiamo facendo le cose migliori, anche perché questo atteggiamento porta a delle incomprensioni evidenti. Ricordiamo che solo due settimane fa, tre settimane fa, eravamo di fronte a comuni, anche nel nostro territorio, che vietavano di fumare in strada, di sedersi su una panchina. Quattro settimane fa, tre, quattro settimane fa, è chiaro che i dati non sono così migliorati da poter dire adesso andiamo a cenare. Se quattro settimane fa, un mese fa, si chiudevano le panchine, si sigillavano le panchine e si vietava la gente di fumare. Ecco, allora questa esasperazione, da un lato nelle chiusure, e questo eccessivo ottimismo, ora lascia interdetti, e lascia in fondo i più deboli, che sono spesso, sia dal punto di vista sanitario, che dal punto di vista economico, le prime vittime, ancora più indifesi e senza punti di riferimento. Le parole di Galli ieri sera, a nostro avviso, sono state importanti, sono una vera e propria lezione al Presidente della Regione Emilia-Romagna, non siamo i migliori, non c'è una verità infusa, la verità va ricercata e va detta con coraggio. È un auspicio che vale per Bonaccini, ma per tutti. Ci fermiamo qui, continuiamo con le notizie della pressa, per chi vorrà seguirci, fino a tarda serata, e vi ringraziamo per la continuità con cui ci seguite. Buon pomeriggio, buona serata a tutti.